Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, come avete letto dal titolo, sì non è un titolo clickbait o cose di questo tipo, bensì è la verità, ho deciso di buttarmi, lanciarmi e fare questa tecnologia di video che ho visto già in diversi canali e mi ha molto colpito perché ogni tanto mi rendo conto che siamo tante persone su questo canale, nonostante poche effettivamente poi mi seguono così tanto, però in ogni modo le persone che hanno cliccato e iscriviti sono quasi 30.000 30.000 persone io non riesco ad immaginarle, però posso provarci insomma e uno dei modi in cui io vi immagino è una massa di gente che mi ascolta e che guarda i miei video per questo motivo ho cominciato a portare dei contenuti anche un po' più seri se vogliamo, ho 20 anni, ebbene sì ho 20 anni già compiuti quindi mi piacerebbe cominciare a parlare di cose un po' più serie, soprattutto visto che tante ragazze mi seguono e anche più piccole, ragazze e ragazzi ho deciso di portare un argomento che non riesco a capire perché, ma è diventato un argomento tabù, anche a scuola quando si parla di sesso c'è sempre questa risatina, è sempre interpretato in maniera scherzosa e questa cosa non riesco veramente a capirla forse anche io all'epoca ridevo di queste cose, nel senso che dietro a questo mondo, il mondo appunto dei rapporti tra una donna e un uomo o tra donne e tra uomini, perché ogni cosa è accettata sta diventando un mondo sempre più sottovalutato e soprattutto questo fatto che sia un argomento tabù magari incute molto terrore, molta paura a ragazze che non hanno mai, o a ragazzi che non hanno mai affrontato questi primi passi quindi vi ho chiesto su Instagram di farmi qualche domanda, qualche dubbio che avevate su questo argomento perché vorrei tranquillamente, insomma, con voi rispondere a queste domande spero che vi possano essere d'aiuto e se siete nuovi, se siete arrivati su questo canale tramite questo video piacere, sono Martiride, non faccio solo questi tipi di video ma faccio soprattutto video delle mie giornate, dei miei vlog, dei miei giornate, dei miei momenti di studio quindi, insomma, c'è tanto altro su questo canale ovviamente non dirò i nomi delle ragazze che mi hanno fatto queste domande per privacy Allora, ciao Matti, volevo semplicemente dirti che, nonostante sia fidanzata da ben due anni ancora non riesco a fare il grande passo volevo semplicemente sapere come hai fatto ad acquistare sicurezza per farlo un bacione, un bacione è una domanda, una domandona, ce ne sono state varie di questo genere come sentirsi pronti, eccetera io avevo la stessa paura, insomma, prima che questo grande passo appunto accadesse l'unico modo che posso dirti in cui ho acquistato sicurezza è stato il fatto di comunque frequentarmi con altre persone prima che questa cosa accadesse e acquistare sicurezza in questo modo cioè mi sono trovata ad un certo punto della mia vita che ho detto sento la necessità di avere altro cioè mi sento pronta a fare questo grande passo con questa persona quindi di avere già raggiunto una certa sicurezza di me e un certo feeling con questa persona perché comunque trovare il partner giusto non è facile deve essere una persona, secondo me, che vi dia sicurezza che vi sappia stare vicino che aspetti i vostri tempi e che non affretti questo momento quindi non devi sentirti in colpa se dopo due anni ancora non ti senti pronta magari non è la persona giusta o magari ti sta mettendo ansia e paura che tu non dovresti in realtà avere perché è in realtà un momento bellissimo che andrebbe goduto a 360, insomma e molto spesso invece viene molto fraintesa, no? perché comunque è un momento di ansia, di paura, di panico ma allo stesso tempo è un momento di emozioni, insomma ognuno lo vive a mo' di sua hai mai avuto paura di essere rimasta incinta? come contraccettivo? cosa preferisci? allora, come ogni ragazza paranoica vi dico già che io sarò molto schietta e sincera in questo video, eh? quindi non scandalizzatevi come ogni ragazza paranoica perché io sono molto paranoica sì, varie volte ho avuto l'ansia di essere rimasta incinta non perché abbia avuto colpi di testa o abbia fatto sesso non protetto o abbia sgarrato ad assumere la pillola ma semplicemente perché effettivamente avevo ritardi nel ciclo quindi non era dovuto ad una mia pazzia o una mia uscita di testa ma semplicemente avevo forti ritardi nel ciclo quando già non assumevo più contraccettivi perché dopo parleremo anche di questo e quindi ho avuto, sì, molta paura più ci si concentra sul fatto oh mio Dio, sarò incinta più ti ritardano le mie estruzioni come contraccettivo? eh, bella domanda io ho provato la pillola ne ho provato un solo tipo e questo è stato sicuramente un errore che tutti mi dicono perché non ci si può basare su una sola esperienza dovrei farne di più ma ho avuto talmente tanto una brutta esperienza volevo farci un video riguardo ma sarebbe troppo corto secondo me ho avuto molti effetti collaterali tra cui il grassare quindi ritenzione idrica aumento dell'appetito diminuzione della libido quindi della voglia di avere rapporti sessuali la stitichezza non riuscivo più a digerire alimenti quindi avevo bruciori tremendi allo stomaco ho avuto una bruttissima esperienza che mi ha segnata quindi ho preso la pillola per un anno e mezzo credo poi l'ho smesso e ho provato l'anello vaginale l'anello vaginale è un oggetto in silicone che va inserito nella donna per tre settimane se ben ricordo e anche quello mi dava problemi nel sito quindi non mi dava più problemi di stomaco perché stava all'interno dell'ambiente vaginale però mi dava problemi in quell'ambiente quindi secchezza bruciore un sacco di infezioni mi erano venute quindi ho dovuto smettere io non apprezzo contraccettivi di quel tipo ma semplicemente uso preservativo è molto diverso avere rapporti con o senza lo so benissimo però piuttosto di stare male preferisco fare così come dire ai propri genitori che non sei più vergine questa è una domanda difficile aiuto per quanto la mia esperienza per quanto mi riguarda successe non che io tipo dissi mamma papà vi devo dire una cosa no ero tipo in un argomento simile con mia mamma ero comunque piccolina e niente semplicemente uscì l'argomento una frase del tipo vabbè quando sarà il momento poi succederà e io la guardai tipo forse il momento è già arrivato mamma e mi guardò tipo cosa? no non si arrabbiò però ci rimase un po' male sul momento dopo dissi vabbè dai com'è stato insomma alla fine si interessò anche quindi in realtà non c'è un momento preciso per dirlo secondo me se avete un buon rapporto con i vostri genitori soprattutto con la vostra mamma o per i maschi con vostro papà magari se c'è il discorso della ragazza o del ragazzo eh sì insomma sai certi momenti accadono quando uno se la sente dopo loro capiscono vedrete che non sarà nulla di traumatico quanto è durata la tua prima volta? la prima volta è durata credo sui 30 minuti 20-30 minuti ma per un motivo molto semplice che è un momento particolare in cui avviene un forte cambiamento perché appunto avviene la rottura del dimene che è la struttura che si trova appunto all'interno di una persona che appunto è ancora vergine quindi è un momento un po' anche doloroso se vogliamo dipende dalle persone perciò fidatevi che c'è molto meglio quello è soltanto l'inizio e quindi è ovvio che dura meno perché magari sentite male non siete proprio a vostro agio già delle volte successive pian piano il vostro corpo si abituerà e i tempi si dilateranno chiaramente dipende molto dall'uomo e da quanto riesce a continuare secondo te è la prima vostra per fare sesso deve farla lei o lui può venire da entrambe le parti secondo me molto spesso viene dalla parte maschile e poi la parte femminile accetta o declina l'invito a farlo nel mio caso è avvenuta da entrambe le parti nel senso che c'è stato un momento di intesa in cui si è detto a me va anche a me mi sento pronta ok facciamolo momento in cui entrambi volevamo insomma però non ci deve essere una persona in particolare che lo chiede se ti va butta e ti fai la domanda insomma esiste un'età precisa per farlo ho 18 anni e un ragazzo 33 e poi esiste un limite di frequenza per farlo allora non esiste un limite di frequenza nel senso in base alla tua supportazione di quel gesto dura quanto uno lo vuol far durare nel senso non c'è un limite di frequenza o di volte può fare anche 10 volte al giorno come una volta al mese dipende dalle persone ma anche cioè io non sono d'accordo sul fatto di esiste un'età per farlo no chiaramente eviterei di farlo a 12-13 anni ma semplicemente perché non si è ancora esperti cioè non si è esperti a 18 fra un po' figuriamoci a 12-13 anni si rischia di fare i capolatti di fare veramente dei danni la decisione è precisa l'importante è fare le cose con la testa sulle spalle quindi sapendo ciò che si fa un'altra domanda sul contraccettivo a cui ho già risposto come si fa a capire quando sei pronti quindi già sarà la mia prima volta e ho paura di non essere in grado o di non sapere come comportarmi lui lo sa è disposto ad aspettarmi perché sa che è una cosa grande e ne abbiamo già parlato e mi ha detto di non preoccuparmi e allora top no c'è sempre questa ansia ma questa ansia c'è poi per tutta la vita ci sarà qualsiasi persona voi frequentiate anche dal minimo primo passo che può essere un bacio avrete sempre ansia a farlo perché è un po' di ansia da prestazione no? è sempre l'ansia di dire oh mio dio magari non sono all'altezza magari questa persona ha tante esperienze io no si formano tante pare mentali tanti complessi in ogni modo per quanto riguarda il fatto di ho paura di non essere all'altezza e di non sapere comportarmi non ti preoccupare nel senso che se il tuo ragazzo l'ha già fatto sicuramente ti indirizzerà lui verso le azioni che dovrai fare ma comunque non è un obbligo saper fare certe cose perché alcune cose si imparano soltanto con l'esperienza per quanto mi riguarda è stato così soltanto facendo esperienza quindi ripetendo tante volte le stesse cose alla fine si impara e si perfeziona è chiaro che è la prima volta che immagino neanche io fossi all'altezza di fare certe cose però è stato bello perché è un momento di condivisione comunque si cerca di dare il proprio meglio anche in qualcosa che è tutto nuovo ultima domanda alla quale rispondo è quando è stata la tua prima volta suppongo abbia fatto male come tutte le prime volte allora la mia prima volta è stata a 16 anni abbia fatto male in realtà no molti ragazzi dicono oh mio dio ho perso tantissimo sangue nel mio caso ad esempio no proprio no quindi dipende delle persone sì certamente non è stata una sensazione piacevole ma perché effettivamente adesso voi riderete ma è un luogo che non è abitudine diciamo non siete abituate ad avere un corpo estraneo nel vostro corpo ok quindi quel momento sarà un momento molto strano cioè proprio non so spiegarvi la sensazione che sentite però è una sensazione proprio di stranezza cioè in quel momento dite oh mio dio cosa sta accadendo cioè perché non riuscite a capire finché non lo fate qual è la sensazione che si prova non fatevi ingannare dalla prima volta perché vi ripeto dopo è tutto in discesa cioè la prima volta è la più brutta secondo me dal punto di vista fisico proprio perché non siete molto spesati no non sapete se vi piace se non vi piace invece poi dai volti dopo che il vostro corpo insomma si abitua fidatevi che sarà molto molto meglio e no in realtà non è stato doloroso devo ammettere fastidioso sì ma non dolore vabbè ultimissima domanda qualche luogo strano dove lo hai fatto questa è una domanda abbastanza personale uno tra questi potrebbe sicuramente essere ma perché per me è un luogo strano magari per alcuni no potrebbe essere al mare avete presente le spiagge i bagni privati dove ci sono tipo le cabine dove ci si cambia il costume ecco e con questo chiudo il video perché siamo giunti ad un livello un po' un po' troppo ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto se vorrete una seconda parte perché ora ho fatto questa domanda su Instagram però a me piacerebbe molto farne altri di questi asca tema appunto sesto perché vorrei che non diventasse un tabù cioè nel senso è una cosa che ormai fanno la maggior parte delle persone quindi perché deve essere un tabù no? quindi ora ho ricevuto non tante domande erano tipo una trentina le domande in totale e io ho selezionato queste ma sono sicura che magari facendo questo video sprono altre persone ad avere altri dubbi quindi vorrei poter fare una seconda parte di questo video e lasciarmi le domande qua sotto o semplicemente sul mio Instagram che è appunto Matilde Carleiter questo mio uscire fuori dal guscio diciamo perché è giusto così e mi sentivo pronta diciamo a parlarne e a raccontarvi qualcosa vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.